per avermi invitata. Io parlerò della ricerca di nuovi marcatori e di target molecolari per interventi terapeutici nell'ambito dell'assistenza palliativa. La mia presentazione sarà un pochino la versione diciamo tecnologica dell'argomento di cui ha parlato la dottoressa la quale parlava di cure psicoterapeutiche personalizzate che tengano conto appunto della storia personale del paziente della sua emotività, delle sue fragilità, delle sue paure, delle sue speranze. Questa presentazione invece parlerà della ricerca che viene fatta in campo farmacogenetico che vuole portare a una terapia farmacologica personalizzata la quale tenga conto delle variabili genetiche che ci sono tra individuo e individuo quindi come a livello psicologico abbiamo delle variabili personali che derivano dalle nostre storie a livello farmacologico possiamo avere delle risposte diverse a seconda del tipo del nostro genotipo. Quando si effettua la scelta di un farmaco ci si basa essenzialmente sulla affinità e sull'efficacia vengono valutate le razioni avverse e appunto deve essere valutata anche la variabilità individuale nella risposta al farmaco. Per affinità si intende la capacità di una molecola di legarsi in un sito che si chiama sito di binding in un sito specifico della proteina target quindi di solito è un recettore e questa affinità dipende da una complementarietà geometrica tra appunto la molecola del farmaco e la parte del recettore a cui si va a legare e anche prende in considerazione anche l'energia di legame necessario finché queste due molecole si leghino in un binding. Una volta che la molecola si è legata ad esempio in questo punto questo porterà delle modificazioni a livello del recettore che scateneranno poi all'interno della cellula una serie, una cascata di altri eventi che sono appunto quello che il farmaco deve effettuare. Purtroppo però oltre all'effetto terapeutico desiderato possiamo avere anche l'esorgenza di una serie di reazioni avverse che di solito aumentano con l'aumento del dosaggio del farmaco. Più sono, questa è la curva del dosaggio del farmaco, queste sono la curva delle reazioni avverse, più si sale con il dosaggio e generalmente maggiori sono le reazioni avverse e maggiore è la distanza tra le due curve e migliore è la scelta del farmaco e il dosaggio. Si è visto appunto che c'è una certa variabilità individuale nella risposta ai farmaci e le variazioni rappresentano un problema terapeutico significativo in quanto soltanto un terzo della popolazione diciamo ottiene tutti i benefici del farmaco senza avere effetti collaterali mentre circa i due terzi non ottengono completamente i benefici dalla terapia farmacologica e sviluppano una serie di effetti collaterali più o meno gravi. è stato stimato che in Italia circa 5 milioni di persone abbiano problemi nella tolleranza al farmaco e che addirittura negli Stati Uniti la quarta causa di morte sia dovuta a un dosaggio eccessivo un dosaggio eccessivo una variabilità individuale nei confronti di alcuni farmaci. Quindi la farmacogenomica che è una scienza che comprende una parte di biologia molecolare una parte di bioinformatica e una parte di farmacologia ha un ruolo di primo piano nell'individuare le terapie mirate che dovrebbero diventare sempre più personalizzate in cui si abbia il massimo di efficacia del farmaco con il minor numero di effetti collaterali. La variabilità individuale nella risposta ai farmaci dipende da fattori patologici da fattori fisiologici come il sesso, l'età, il peso, da fattori ambientali come il fumo, l'alcol, la dieta o l'interazione con altri farmaci, da fattori anche culturali e psicologici naturalmente e poi da fattori genetici. Questi fattori genetici di solito sono di due tipi sono i polimorfismi che è più noti anche come SNPs o il copy number variation, cioè un numero diverso di copie di alleli dello stesso gene. Sebbene il genoma sia uguale nel 99,9% all'interno degli individui della stessa specie c'è uno 0,1% di differenza tra individuo e individuo che è rappresentata da circa 3 milioni di polimorfismi o detti anche SNPs quanto il genoma è lungo 3 miliardi di basi nucleotidiche e quindi possiamo avere fino a 3 milioni di polimorfismi. Questi polimorfismi possono essere a carico, cioè queste piccole differenze possono essere a carico di geni che codificano per il bersaglio del farmaco quindi del target farmacologico, in questo caso parliamo di farmacodinamica e riguarda essenzialmente recettori, enzimi canali ionici o proteine regolatrici oppure possono essere a carico di geni che codificano per proteine coinvolte nella biodisponibilità del farmaco. In questo caso si parla di farmacocinetica e riguardano gli enzimi, le proteine coinvolte nell'assorbimento, nel trasporto, nel metabolismo e nell'escrizione del farmaco. Le varianti genetiche possono essere qualitative o quantitative. Quando parliamo di varianti qualitative parliamo di SNPs, cioè single nucleotide polymorphisms, in cui si ha anche la variazione di una sola base nucleotidica all'interno di un gene. Questo fa sì che l'aminoacido, che è la tripletta di nucleotidi, va a codificare possa essere diverso e quindi portare a una struttura proteica, ad esempio del recettore, diversa, che quindi non riesce più a legare bene il farmaco e quindi non riesce ad avere una buona affinità con il farmaco. Invece per polimorfismi quantitativi, cioè per i copy number variation, sono delle variazioni nel numero di copie del gene. Quindi ognuno di noi ha due copie di un gene, uno ereditato per via materna, uno per via paterna, però in alcuni casi possiamo avere o la delezione di uno dei due alleli, quindi magari avere soltanto una copia, oppure questo gene può amplificarsi e arrivare fino a più, non so, 10-15 copie. E quindi si avrà una funzionalità aumentata della proteina espressa da questo gene. Qui c'è la rappresentazione di quello che è uno SNIP, quindi se a livello di DNA noi abbiamo una tripletta nucleotidica, come per esempio CTA, che codifica per l'acido aspartico, se abbiamo una mutazione anche solo di una base, e quindi questa A viene sostituita dalla T, abbiamo CTT, noi a livello di amminoacido, che viene poi a livello di sintesi proteica, avremo che l'acido aspartico viene sostituito dalla valina e quindi la proteina che va a formarsi è leggermente diversa e quindi può non legarsi più con il farmaco. In questo caso abbiamo la rappresentazione invece di quello che può succedere in caso di copy number variation alterato. Abbiamo questo enzima, il CP2,6, che fa parte dei circa 70 enzimi del citocromo P450 e questo gene può essere o deletto, cioè si può avere perdita di questo gene, oppure può avere delle mutazioni che portano a un enzima alterato, quindi non funzionale, e in questo caso, vedete questa curva qui grigia, avremo quello che si chiamano i metabolizzatori lenti, cioè il gene è assente o è poco funzionante e quindi il farmaco non viene metabolizzato, si accumula a livello ematico e si hanno grossi effetti tossici. Poi abbiamo delle curve, diciamo, di normalità quando il gene è presente in più copie. L'ultimo caso, sempre questo qui in grigio, invece riguarda, ad esempio, i pazienti che possono avere fino a 13 copie di questo gene. Quando il gene è così altamente rappresentato, l'enzima a livello ematico è molto alto, per cui il farmaco viene metabolizzato immediatamente e non si ha nessun beneficio terapeutico. In questo caso parliamo di metabolizzatori rapidi. Poi possiamo avere delle alterazioni di alcune proteine che invece sono quelle che trasportano alcune sostanze xenobiotiche, come ad esempio i farmaci, dall'interno all'esterno della cellula. Quindi un farmaco entra e viene immediatamente ributtato fuori da queste proteine. I metodi diagnostici per andare a genotipizzare un individuo per vedere come mai non risponde a una terapia. Quando un individuo non risponde a una terapia o ha degli effetti collaterali che sono delle vere controindicazioni, possono essere fatti dei test che non sono al momento disponibili ovunque questi test genetici, sono ancora in fase un pochino sperimentale e possono essere effettuati o con realtà in PCR oppure con sequenze metodi di Sanger oppure con delle tecnologie ai throughput che sono più avanzate come quelle dei microarray. Per la valutazione del copy number variation anche qui si può usare il sistema con realtà in PCR o tecnologia microarray e adesso si stanno sviluppando le tecnologie, cioè sono già state sviluppate le tecnologie di next generation sequencing che però sono tecnologie molto costose, molto avanzate che richiedono dei laboratori veramente di alto livello e che verranno utilizzate soprattutto per la mutation discovery. Una volta che vengono individuate le variabili a livello genotipico, le variabili individuali che ci possono dare delle indicazioni sulla scelta del farmaco per cui ci possono dire questa persona ha una mutazione su questo gene quindi quel farmaco non funziona perché non riuscirà a legarsi oppure ha molte coppie di questo enzima quindi metabolizzerà molto velocemente il farmaco. La farmacogenomica si propone di migliorare l'efficacia delle molecole terapeutiche e di ridurre la tossicità appunto individuando il genotipo del paziente e quindi individuando i marcatori che a livello molecolare ci diranno già come risponderà il paziente alla terapia. Individuando nuovi target terapeutici questo si può fare facendo degli studi di screening su popolazioni più ampie e poi sviluppando dei sistemi bioinformatici per studi di modeling cioè per modellare molecole farmaceutiche già esistenti possono essere leggermente modificate in modo tale che si leghino perfettamente anche a una proteina recettore che ha qualche modificazione dovuta alle mutazioni a livello genico. Quindi lo scopo della farmacogenomica è quello di approdare a una terapia personalizzata che tenga conto delle variabili genetiche dell'individuo e che possa poi portare al disegno di nuovi farmaci quindi per ottenere la massima efficacia e la minore tossicità. I geni più importanti coinvolti in anestesiologia sono i recettori degli opioidi sono le proteine multidrug resistance che sono quelli che danno resistenza ai farmaci l'enzima COMT l'enzima del metabolismo CP-D2-6 che abbiamo appena visto e alcuni geni che controllano la trasmissione dell'impulso nervoso. Quindi concludendo possiamo dire che la traslazione della farmacogenomica nell'ambito delle cure palliative rappresenta un grande obiettivo dei prossimi anni i lavori sono già iniziati anche se molto lavoro c'è ancora da fare e comunque i risultati già ottenuti soprattutto poi con lo sviluppo di queste tecniche high throughput cioè tecnologie ad alta resa che permettono di analizzare milioni di variabili in poco tempo forniscono delle solide prove dell'impatto di queste scienze omiche nella scelta e nello sviluppo di nuovi farmaci. Ringrazio il progetto Bandiera Interomics e ringrazio il progetto Regione Sardegna per lo sviluppo di un'infrastruttura bioinformatica per la terapia del dolore in malati terminali. Quindi... Grazie.